Venerdì 20 agosto 2010. Oggi ci troviamo a Vulci. Quello che vedete adesso è uno scheletro conservato qui in questa teca. Ci troviamo nei pressi dell'Acquedotto Romano. Ecco, Vulci è uno dei tre più importanti centri dell'Etruria Antica. Il territorio fu frequentato, pensate, fin dall'età neolitica e a partire dal secondo millennio a.C. venne occupato da villaggi posti per lo più vicino a posti d'acqua e su alture difese naturalmente. Vediamo una panoramica del parco di Vulci, che sta poco distante dal montalto e dal mare. Diciamo che la fortuna di Vulci durò per circa 2000 anni, fino al 50 a.C., poi venne pressoché abbandonata e ebbe una sua seconda fortuna nel 1800 quando fu oggetto di interesse di illustri visitatori che riconosceranno le testimonianze archeologiche importanti fasti del passato che venivano a riscoperti. Vulci, 20 agosto 2010, noi ci vediamo tutte e tutti su ematube.it